Deas, il software leader in Italia in ambito successorio, compie tutte le operazioni inerenti alla trasmissione della dichiarazione in successione all'agenzia delle entrate senza utilizzare il desktop telematico o accedere ad Entratel e con la nuova versione 2021 si arricchisce di nuove funzionalità telematiche. Infatti, alle funzioni di verifica, autenticazione e della successione dall'interno di Deas e alla console telematica per le ricevute, si affianca ora una nuova funzione, Download ricevute e documenti, che oltre a semplificare tutte le procedure è in grado di verificare la presenza e scaricare anche la copia semplice della dichiarazione e l'attestazione di avvenuta presentazione. Vediamo nel dettaglio le principali novità. Abbiamo adesso a disposizione nel registro ricevute telematiche una nuova funzionalità denominata Download ricevute documenti, che permette di scaricare e salvare all'interno della pratica, oltre alle ricevute, anche la copia semplice della dichiarazione e l'attestazione di avvenuta presentazione, se ancora disponibile, documenti, ricordiamo, presenti nella sezione e preleva documenti di Entratel. La nuova funzionalità rispetto alla console ricevute telematiche, oltre al download degli ulteriori documenti, inserisce automaticamente solo le nuove ricevute e documenti senza bisogno di selezionare o deselezionare gli elementi scaricati. Permette di effettuare l'operazione anche per successioni presentate tramite Fisco Online, con le credenziali del contribuente. Questa modalità viene attivata nei casi in cui la casella registrazione tramite intermediario sia disattivata. La nuova funzionalità è accessibile direttamente anche dalla barra degli strumenti, tramite un apposito pulsante. La console ricevute telematiche rimane comunque attiva per i casi residuali. Il software, inoltre, è già aggiornato alle novità normative in vigore dal 1 gennaio 2021, nuovo calcolo degli interessi per il ravevimento per oso e adeguamento delle modalità di calcolo dell'usufrutto. Ricordiamo che DEAS permette di generare automaticamente tantissimi documenti integrativi, già precompilati con i dati della pratica ed editabili, facendoci risparmiare notevole tempo e in particolare sono stati aggiunti in questa versione nuovi modelli integrativi che contengono ulteriori scelte da indicare nella richiesta per usufruire dell'agevolazione prima casa. Ulteriori modelli, testi base, relativi alle agevolazioni codice C, D, E e Q, da allegare alla dichiarazione nei casi in cui il richiedente non sia il dichiarante, ovvero dichiarazione per esenzione, codice C, categoria degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti, dichiarazione per esenzione, codice D, proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa, anche per società di capitali, codice E, compendio unico e maso chiuso, dichiarazione per riduzione, articolo 25,4 bis, codice Q. Ed ancora, il modello di autodenuncia per la decadenza delle agevolazioni prima casa per cessione infracquinquennale e mancato riacquisto, e il modello di autodenuncia inerente la decadenza agevolazione prima casa per mancato trasferimento di residenza, tramite i quali dichiarare all'agenzia delle entrate la perdita dei requisiti per la richiesta delle agevolazioni prima casa e chiedere l'applicazione delle normali aliquote per l'imposta ipotecaria e catastale senza alcuna sanzione. E compresi nel prezzo di acquisto vi saranno tutti gli aggiornamenti normativi e non per tutto il 2021, l'assistenza tecnica e l'accesso all'area domande e risposte. DEAS, uno strumento sempre più indispensabile per i professionisti delle successioni.